ok gente ci siamo siamo di nuovo qui nella carriera come avete visto abbiamo battuto il nostro creed unica cosa che io non capisco una volta che abbattuto creed perché devo andare avanti allora forse c'è stata una sorta di fregatura leggendo un po i commenti che si faceva creed col tizio ora io sono creed ho perso contro quel lato che ero io a combattere ho battuto creed e ora sono credo quindi la storia secondo me si vedremo che dice un onore damian è quello che mi ha battuto quello che io ho battuto creed ok quindi damian ha battuto lui lui che ero io a combattere ora lui è figlio di ivan drago mi vuole allenare lui quindi dovrò combattere contro damian che ha fatto un po lo sbruffone qualcosa del genere mi sembra di capire di tipo schiaccia la talpa si più forte frank 5 completato 13 esercizi 5 ho fatto ottimo devo stare attento qui guarda il figo ok ci abbiamo un incontro sei pronto se lo dici te as turisti affrontata damian affrontiamo ho solo dei problemi quando mi devo girare a volte mi trovo a combattere in questo modo dovrei girarmi del tutto cerchiamo di stare un po fermi sul punto devo solo muovere a destra e a sinistra senza muovermi cioè mi posso muovere così così non sta attento a non allontanarmi a questo punto se no spacco qualcosa damian eccolo qua è quello che ha fottuto tutti è grosso eh quello si bello bello un ragazzo Preccio in fronte in speed with another gun Oh, that's gotta hurt! Sani Vedio rahmedio jirakuzzi Ad blow sent Preccio stumbling towards the rocks questo non è bene che fa? questo non già era? questo è forte ma è attaccato anch'io stronzo duro questo incontro ok ma sei ragazzato? grazie si può sentire all'angolo sono nel cazzo d'angolo non c'è giù giù a 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 giù dai da che cazzo siamo da che cazzo siamo ma che è una galera ma che cazzo è successo molto lontano dai dai prank perché in una galera una paffanculo sta per buttare giù ma no 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 vuoi provare? da stanco? vabbè proviamo cazzarola questa è forte ragazzi ci spioviamo faccio mettere un po' d'aria è forte dai 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 sta cito Sì 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 Dai Io non ho la T-1000 Io ci vado adesso ora Sì 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 Dai Non ci credo Sì Sì Forte Sì 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 Dai Sì 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 No 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 Questo è tosto Ci allineiamo ancora un po' Per arrivare da lui Vediamo intanto leggenda che dice Capitolo Ah vedi È proprio l'ultimo Batti questa è andata Vabbè dai facciamo così Indietro Lo facciamo a livello novellino Tanto per vedere come finisce la storia Tosta comunque quella lì finale con lui Vai Continuiamo la storia Livello Però novellino Mi tocca abbassare la La difficoltà Ho provato due volte Livello professionista L'ho buttato su tre volte E non ha perso Proviamo a livello novellino stavolta per vedere Come va a finire la storia Ma anche perchè c'ho voglia di portarlo all'alto Quindi Si ma è forte quello Si ma è forte quello No no Allora sfondiamo Mi ha abbassato un po' la difficoltà ragazzi Se no non ce la facciamo Cioè magari ce la fai Ma devi provare tante volte Quindi abbiamo fatto due tentativi Li abbiamo fatti Caldino E ora in testo cerchiamo di buttarlo giù Cioè ho i pugni Quasi non dobbiamo scalzare Riscaldamento Ok Ok Ora a livello campione Cioè professionista non lo farei proprio Ok Livello 5 stelle Ci siamo Andiamo all'incontro Si si tranquillo Sono pronto Ho abbassato la difficoltà vedrai Dovremmo tirarlo giù Eh? E che cazzo Potrei stare qui ragazzi A provare giorni per giorni Poi magari non farcela quindi Abbassiamo e vediamo come finisce la storia Comunque è molto più forte Comunque è molto più forte È a sali di un livello secondo me Perché gli altri non erano a questo livello Gran finale Quattro vittorie per K.O. Voglio riprovare il suo valore a ogni costo Quattro vittorie per K.O. Ho sempre paura eh Dai dai Franco Ora non hai scusa eh L'ho buttato giù All right All right You both know how this works Touch gloves and get ready to fight Super dovere vergognoso That's no starting bell And the fight is underway Does one of these fighters have What it takes to be the champ? Let's find out No 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 He can't get anything through No Ora riesco a vedere un pochino meglio i pugni quando arrivano È come se fosse un po' più lento Riesco anche a pararli Bene Oh Stai scherzando aspetta Anzi mi sta sfondando a livello 9 Vieni Prima io devo buttarti giù Prima io devo buttarti giù E mi buttarci giù Avviso E' una Riesco Vieni Giacchiana Cerimo Sarà un 2 È rosso ma viaggio no 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 die prima io per ora ok let me hit me green slams hard into his opponent green dai due volte giù dai che ci è a casa ora qui mi stai prendendo un livello in più sto stronzo veloce ma ho buttato giù lo stesso? dai 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 che si porta a casa cazzo che cazzo sono troppo vicino a qualcosa e mori e facci vedere sta fine e dai facci la vedere sta fine 3 4 5 non ce la fa vedere ragazzi ce la fa vedere ragazzi ce l'abbiamo fatta con l'aiutino credo che avremmo potuto farci anche a livello professionista ragazzi ma come ho detto dobbiamo provarci ancora e ancora e ancora dato che non adesso voglio un po' dell'online abbiamo finito la storia credo quindi ora ci butteremo nell'online nel prossimo episodio andiamo a vedere com'è finita coglione dopo l'incontro così si fa campione mi spiace non ce l'ho mai avuta con te non è vero 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 alla fine abbiamo fatto anche pace ecco l'ho finito hey man io ero con la tua piccola oggi guardando la città e lei ha chiesto di vedere il trainer la prossima credo che vedo chi è andato nella prossima abbiamo finito il gioco ragazzi vediamo e congratulazioni campione si l'abbiamo fatto ragazzi abbiamo finalmente finito il gioco e non è vero non è vero è vero